E' un brano questo di Velleio Patercolo, uno storico minore, alcuni arrivano al punto di non definirlo storico, ma in ogni modo vive al tempo di Diberio e indirizza quest'opera a un certo Vinicio, e sono solo due libri questa storia romana. Nel primo libro si parte addirittura dai tempi di Troia fino ad arrivare alle ultime guerre puniche e poi si arriva nel secondo libro alla storia contemporanea. C'è una sviscerata celebrazione di Diberio in perfetta sintonia addirittura con il suo ministro Seiano, che sappiamo che a Roma in assenza di Diberio ne aveva combinate di cote di crude. Era per la legalità Velleio Patercolo, quindi contrario a Mario, dalla parte di Pompeo, contrario a Bruto Cassio. Quindi in una prospettiva tutta senatoria di restaurazione e di ordine. In ogni modo qui abbiamo il paragone che ci propone tra Scipione Emiliano e Lucio Mumio. Non è difficile, il procedimento è molto lineare, io penso che non ci vuole una gran erudizione, né una particolare capacità intuitiva nel lessicale per tradurre questo vorano. Vedete anche che dai colori abbiamo quasi tutte le proposizioni, tranne l'ultima frase, che è questa, ma le altre sono tutte le proposizioni principali, al limite hanno semplicemente una subordinata, quindi procedono, almeno per la prima parte, tutte in paratassi, con al massimo una subordinata di primo grado. Io demanno cuocartago concidit, cuocartago concidit vedete che è una relativa in cui cadde cartagine, e ho demanno nello stesso anno Lucio Mumio, che è il soggetto, distrusse dalle fondamenta Corinto, fonditusse un avverbio e vuol dire appunto dalle fondamenta. Non penso che ci sia nulla di particolare, questo quo è un complemento di tempo determinato, in cui, quando. Fermiamoci qui, anche se si potrebbe andare fino in fondo. Vi ricordate che uterco tra cutrunque vuol dire l'uno e l'altro, l'uno e l'altro comandante, è un nominativo, è chiaramente una principale, non ci sono particelle subordinanti, notate tutti i nominativi che si riferiscono a uterco imperato, abbiamo un honoratus, abbiamo un alter, un africanus, un altro alter, un appelatus est, un acaicus, quindi abbiamo soggetti, complementi predicativi del soggetto, eccetera, eccetera, attributi del soggetto. Quindi l'uno e l'altro comandante, possiamo anche mettere tranquillamente questa piccola incidentale qui, onorato da che cosa? Dal nome del popolo vinto da lui. Quindi mi raccomando, quando vi trovate una serie così di parole partite è sempre dal nominativo, onorato da che cosa? Dal nome della gente, del popolo vinta da lui. Alter, appellatus est, africanus, vedete che nel primo abbiamo sottinteso appellatus est, uno fu chiamato africano, non c'è alius, perché qui stiamo parlando di uno tra due, quindi alter, alter, non alius, alius. Uno fu chiamato africano, l'altro fu chiamato acaico. Necquisquam ex novis hominibus prior mumion cognome virtute partum vindicavit. Quindi necquisquam vuol dire e non qualcuno. Voi sapete che quando c'è una congiunzione negativa, una congiunzione più un pronome negativo, in italiano, la negazione in latino cade sulla congiunzione e non qualcuno, che noi diciamo è nessuno. Ex novis hominibus, tra gli uomini nuovi, così erano chiamati, quelli che non avevano ancora una famiglia che aveva intrapreso la carriera politica. Qui potrebbe anche essere tradotto tra gli uomini moderni. Qui prior vuol dire primo, ma primo tra due, quindi c'è un nequisquam che è uno e il secondo è mumio. Anteriore a mumio, mumio è un secondo termine di paragoni in ablativo. Secondo me sarebbe meglio mettere un anteriore invece di mettere prima, perché diventa prima di, non si traduce in modo letterale, diventerebbe un'erocuzione prepositiva. Quindi nessuno, tra gli uomini moderni o uomini nuovi, anteriore a mumio, poteva antare, ho aggiunto un potefrasiologico, il soprannome preso, generato, da che cosa? Dal suo valore, virtute. Questa virtute è una causa efficiente. Ricordatevi che cognome in latino vuol dire soprannome. Diversi imperatoribus mores, diversa fuere studia, anche qui mi fermerei, c'è un due punti, vedete che c'è un fuere, che sta per fuerunt, c'è una forma sincopata, che vuol dire furono. Quindi, mores, vedete che queste due proposizioni sono simili, e in una è sottinteso qualcosa, in quest'altra è sottinteso un'altra. Quindi, diversi imperatoribus fuere mores, diversi, fuere diversa studia. letteralmente sarebbe, abitudini diverse furono ai due comandanti. Vedete che siamo in un dativo di possesso, per cui imperatoribus, dativo di possesso, diventa soggetto, e il verbo essere diventa avere. I due comandanti, ho messo due, l'ho aggiunto io, ebbero diverse abitudini. ebbero, lo ripeto di nuovo, diversi interessi. Quippe scipio, tam elegans, liberalion studiorum et omnis dottrina et autore et admirator fuit, ut, vedete, tam ut, siamo nella consecutiva. polibium et panesium, precedentes ingegno virus, dove mi dice che questo è comabuerit, qui possiamo mettere un infatti, scipione, che è un soggetto, non c'è dubbio, un nominativo, e poi vediamo un momentino fuit. vedete, di nuovo, guardate tutte le paroline che diventano nominativo, elegans è nominativo, autor è nominativo, admirator è nominativo, quindi, abbiamo un fuit copula, infatti scipione fu, è autore elegante, è ammiratore, di chi? degli studi liberali, et omnis dottrine, e di ogni dottrina, e di ogni disciplina. Tanto che, ed ecco, abbiamo la consecutiva, in latino abbiamo il congiuntivo, in italiano nella consecutiva, o mettiamo il da più infinito, mettiamo il che più indicativo, che ebbe, oppure da avere, i complementi oggetto, Polibio e Panezio, eccellenti uomini di ingegno, spero che per eccellente sviro, sono attributi e apposizioni di Polibio e Panezio, ingegno, metterei un complemento di qualità, ma, eccellenti uomini, ingegno, potrebbe anche essere, un complemento di limitazione, in ogni modo, un ablativo. Con sé, domi milizieque, è una frase fatta, dove, lo stato in luogo, anche se figurato, viene messo al genitivo locativo, in pace e in guerra. neque enium, quisque oxcipione, elegansos intervalli, negozio, l'omozio, di dispunxit, e sempre, aut veri, aut paci, servit artibus, sempre, in te arma, studia versatus, aut corpus, pericoli, statu animum, disciplinis, servit, vedete che qui è tutta una principale, non abbiamo particelle subordinanti, e i verbi sono dispunsi, servit, exerquit. Qui all'inizio è necessario usare un po' di intuizione, perché se no la traduzione non viene bene, non c'è dubbio che quisque sia il soggetto, no? È il soggetto quisque, nominativo singolare maschile, più che soggetto. Io questo dispunxit, di sporre, ci ho aggiunto un frasiologico, un verbo frasiologico, guardate che se non conoscete i termini, frasiologico, reggente, principale, io adesso ho messo insieme un testo di analisi, che potete scaricare dal mio sito, dove vedete, e su ognuno di questo argomento c'è anche il, il video, per cui potete andare a vedere, se no tutte le volte devo ricominciare a spiegare in che cosa consiste una cosa, oppure in che cosa consiste un'altra. Seppe è un frasiologico, in latino i frasiologici non si traducono, io però l'ho aggiunto, per non mettere solamente dispose, seppe disporre. Il problema sta qui, perché letteralmente sarebbe, ne infatti ciascuno, seppe disporre, più elegantemente di questo scipione, che cosa seppe disporre? Gli intervalli, i tempi degli impegni, ozio, al riposo, con il riposo, seppe alternare anche, i tempi degli impegni, al riposo, ecco, mi è venuto in mente che alternare, sta meglio, alternare, e sta meglio anche perché abbiamo delle reggenze, dei casi che corrispondono all'italiano, seppe alternare che cosa? Tempi, intervalli di tempo, dediti agli impegni, quindi intervalli degli impegni, a intervalli riservati al riposo. Ecco, e qui all'inizio che viene fuori, ne infatti ciascuno, seppe alternare, più elegantemente di questo scipione, io metterei, e infatti nessuno, invece di mettere, ne infatti ciascuno, e infatti nessuno. E' sempre, aut belle, aut pace, servit artibus, e sempre, si impegnò, o, nelle arti della guerra, o nelle arti della pace, quindi servio in latino vuole il dativo, potremmo tradurre, e così sarebbe ancora più letterale, e sempre si dedicò, alle arti, o della guerra, o della pace. Di nuovo un versatus, attenzione di partire sempre dal dominativo, impegnato sempre tra le armi e gli studi, aut corpus pericolis aut animum disciplinis exerquit, esercitò che cosa? Corpus animum, o il corpo ai pericoli, o l'animo alle discipline. Poi possiamo trovare delle forme migliori, esercitò il suo corpo nei pericoli, o l'animo nelle discipline, questo è un lavoro poi che si fa alla fine, quando si è tradotto tutto, quando si è sicuro di aver tradotto giusto, allora si fa un lavoro di lessico e di forma. Mumius, questa è una battuta, fa ridere un po' questa cosa, di cosa ha tirato fuori Mumio, che probabilmente era abbastanza rozzo, e poco preparato sotto un punto di vista culturale, Mumiums tam rudis fui tut, capta corinto, cum maximorum artificium perfectas manibus tabulas extatus in Italian portandas, localet, iubert, predici conducentibus, sieas perdidisse, nova seos redituros esse. Questa è l'ultima, sono tre righe, ed è, ad eccezione delle altre, una ipotassia abbastanza complicata. Più complicata più che altro non per la traduzione, ma perché ci si potrebbe confondere un verbo con un altro. Vediamo innanzitutto di cominciare da capo. Mumio stam rudis fui tut, ecco questa è la principale, non c'è dubbio, non ci sono particelle subordinate. Ut, il problema è andare a cercare dov'è il verbo dell'ut. Capta corinto, non c'è dubbio, è un ablativo assoluto, lo lasciamo lì. Poi inizia anche cum, e il primo che noi troviamo è lo caret, quindi cum lo caret è da mettere assieme. Quindi questo ut sta col secondo congiuntivo, iuberet. Dentro la lo caret, come al solito, come capita spesso, abbiamo l'infinitiva retta dalla sua reggente, cum lo caret. Poi iuberet, c'è un'altra infinitiva, predici, conducentibus, che regge un'altra infinitiva, nova seos redditurus esse. e si eas perdidisse, nova seore di turus esse, è un periodo ipotetico, però non c'è nulla di particolare, questo periodo ipotetico dipendente, perché si può tranquillamente tradurlo così com'è. Vediamo un po'. Mugno fu tanto rozzo, che, e lo lasciamo in sospeso, è questo che, capta corinto, un ablativo assoluto, presa, occupata corinto. Cum cum lo caret vuol dire predisporre, predisponendo che cosa? Vediamo il soggetto dell'infinitiva. Abbiamo tavulas, statuas, perfectas, portandas, e tutto a mettere assieme, soltanto che bisogna vedere quali da mettere prima e quali da mettere dopo. che i quadri e le statue, diamo sempre il primo soggetto, perfectas manibus, fatte a mano, dovessero essere portati in Italia, attenzione che portando a sé se è anche una perifrastica passiva. quindi, stabilendo che i quadri e le statue fatti a mano, ah, poi ho dimenticato, maximorum artifici, artifices artifices artificium, dei più grandi artefici, dovessero essere portati in Italia, riprendiamo quel loot, mumio, futtanto, rozzo, che comandò. La consecutiva in italiano è indicativo, comandò. Che cosa comandò? predico, di codici, sdictum dicere, vedete che ha l'infinito presente passivo, però, come vedete, non c'è neanche un soggetto, quindi questo passivo ha valore impersonale, andate a vedere nel mio manuale, tutti i significati che può avere un passivo. quindi, qui dobbiamo tradurlo col sì, che si comandasse, che si avvertissero, che si dicesse ai responsabili che cosa? Che loro avrebbero dovuto restituire le nuove, queste opere d'arte, se le avessero perdute. Mi pare che questa protese è molto semplice, sì, come in italiano, se le avessero perdute, è un periodo ipotetico della irrealità, perché non è però perdere, quindi si dà una condizione irreale e direi che abbiamo finito.